Dico che sono stati dieci anni molto lunghi, tristi, perché la verità non l'hanno voluto fare il sapere alla gente. Dieci anni sono passati dalla morte di Riccardo Magherini e la famiglia attende ancora il pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Magherini la notte del 3 marzo 2014. Si spense dopo essere stato fermato dai carabinieri che lo tennero per alcuni minuti a terra ammanettato a pancia in giù l'intervento dei militari. Era stato chiesto perché l'uomo aveva dato in escandescenze dopo le condanne dei tre carabinieri che l'avevano placato a terra. Il processo si era chiuso con l'assoluzione dei militari sancita dalla Cassazione. La famiglia però ha continuato a portare avanti la battaglia legale e c'è un procedimento ancora aperto con l'Italia imputata davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Abbiamo sentito il dovere di ricorrere all'Europa e l'Europa per il momento ha accolto la nostra richiesta e speriamo bene. Sono già quattro anni che aspettiamo da parte dell'Europa, dicono che sono pronti però per il momento non ci hanno risposto. Noi siamo fiduciosi e ancora una volta dico che l'Italia ha una vergogna per quello che è successo a Riccardo perché è una cosa che era talmente semplice da giudicare, l'hanno stravolta, hanno continuato a trovare cose che non erano vere. Però l'Italia è questa.